Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi sabato 3 agosto 2023, 2024 meglio. Corriere della sera, Bologna scontro sui fatti del 1980, la polemica sulle frasi dei familiari, Mattarella ferita insanabile, colloquio premier Macron, Meloni dice che è grave dire che le radici sono nella destra di governo, Schlein risponde come al solito, fa vittimismo, come in un film, le rivelazioni sulla trattativa per liberare i 54 prigionieri, il patto USA-Russia, le mosse segrete e poi le borse giù per il timore di una recessione a livello mondiale, crollo dei tecnologici e poi Olimpiadi dopo il ritiro di Angela Carini, il capo del CIO all'Italia, la pugile algerina è donna. Andiamo adesso a vedere la Repubblica che titola Meloni oltraggio a Bologna, l'anniversario del 2 agosto, nel giorno della commemorazione scontro tra la premier e i familiari sulla matrice dell'attentato. La leader di Fratelli d'Italia, Gelida, dice, beh, così dice la sentenza. Mattarella fu una spietata, tra le versi, il CIO ribatte a Palazzo Chigi, Calif e Don, a Dobby non basta il passaporto e poi il sovranismo di Giorgia, Isola Roma nello sport. Poi si parla di sanità più giusta per tutti, il forum di Repubblica per l'alternativa a confronto tra la leader del PD, gli esperti del centro-sinistra e gli addetti ai lavori. E poi l'Arabia degli ex prigionieri, Putin si è esiliato dalla Russia. Andiamo adesso a vedere la stampa, ma la stampa, vediamo se è pronta, se è quella di oggi, no, questa è quella di ieri, venerdì 2 agosto, quindi passiamo al resto del Carlino, che parla sempre dello scontro, meloni familiari. Su Bologna il presidente dell'associazione accusa le radici affondano nella destra di governo. La premier dice parole inaccettabili e pericose per la nostra incolumità. Pellegrino, ex presidente della commissione, il movente nelle carte inglesi. E poi accolti da Biden e Harris, l'avversario pagato riscatto e camera da ieri, ufficialmente la candidata dei Dem per le elezioni negli Stati Uniti. E intanto l'intervista a Giovanni Totti, non ho preso soldi per me, politica succube dei magistrati. E poi vediamo, si è aperta una nuova fase, Renzi con noi, serve prudenza, dice Roberto Speranza, l'ex ministro, diciamo così, della salute. Andiamo adesso a vedere il fatto quotidiano, il fatto quotidiano e vediamo Brugnaro e Totti, Chiagni per l'impunità. L'indagato e l'arrestato da Venezia a Genova, due show, un follo nemico, i magistrati. Lacrime e affari d'oro, Brugnaro non mi dimetto, Totti troppo teneri con i PM, Ermini, ok, da Spinelli. Andiamo adesso a vedere il messaggero. Il messaggero parla di disgelo tra Meloni e Macron, Summit a Versailles, dopo un mese di tensione il presidente francese, incontro eccellente, sul tavolo la crisi in Medio Oriente, asse sul Libano ma restano le distanze sulle nomine dell'Unione Europea. E poi in 13 anni su del 26% gli stabilimenti fanno arretrare le spiagge libere, cioè ci sono più stabilimenti balneari, un incremento del 26%, questo vuol dire l'articolo. Venerdì brutto per le borse mondiali, timore di recessione negli Stati Uniti, Milano chiude a meno 2,6%. La Meloni dice basta con il clima d'odio e Vattarella dice una ferita insanabile, le polemiche su Bologna 1980. Andiamo a vedere tennis, una medaglia 100 anni dopo. Vediamo la verità che oggi ci parla delle Olimpiadi. Macronia di gente, colpa di pute, ridicole cospirazioni per giustificare il match della vergogna. La surreale ricostruzione di Repubblica smentita dai fatti a sollevare il caso è stato il Guardian, il Guardian, il giornale progressista e tutto il mondo si è indignato, tranne loro forse impegnati a coprire veri complotti. E poi andiamo a vedere su Bologna solita polemica, ma la Meloni risponde per le rime. E il dietro fronte della Germania non blocchiamo i diesel. Il ministro dei trasporti pentito scrive alla von der Leyen con queste norme ferme 8 milioni di vetture tetesche. Non si può, scrivono e dicono. E poi andiamo adesso a vedere il giornale che oggi parla sempre dei fatti di Bologna. Gli antimeloni perdono la testa, la sinistra strumentalizza l'anniversario per andare contro la Premier Meloni. Lei dice grave che dire che le radici sono nella destra di governo. E poi il faccia faccia, Giorgia, la tregua di Versailles, dopo le tensioni con Macron. E poi male le borse, male Wall Street, giù le big tech. Ma il caso della pugile, il CIO prende tempo, il caso arriva in Ungheria. L'atleta torna sul ring. Andiamo a vedere adesso libero quotidiano. il titolo di libero sinistra senza freni e il delirio del partito democratico. Schlein fomenta i familiari, colpe anche in questo governo dura la Premier ingiustificabile, ma elli dice fai la vittima. Giù le mani da Angela, l'azzurra presa dai bunisti. E poi vediamo toti libero, ma detenuto per sempre per la Liguria. Il centrodestra punta sul vicesindaco di Genova. Andiamo adesso a vedere il tempo. Il tempo purtroppo non è pronto. È quello di ieri, venerdì 2 agosto, che parla dei giochi tarocchi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci e grazie.